Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Stibia e oggi un nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro quel video. Oggi ho deciso di parlarvi di Casey Anthony, la donna più odiata d'America. Nel 2008 è stata accusata di aver fatto sparire sua figlia di soli due anni di nome Kaylee. Ci troviamo ad Orlando, una città degli Stati Uniti, capoluogo della contea di Orange in Florida. E tutto ha inizio così. È il 15 luglio del 2008, quando la polizia di Orlando riceve una chiamata da una donna di nome Cindy Anthony. Cindy denuncia alla polizia Casey, sua figlia, perché sostiene le abbia rubato l'automobile. La situazione però risulta un po' insolita, considerando che Cindy vuole far arrestare sua figlia, che ha solo 22 anni. John Allen è il responsabile delle indagini, quindi manda qualche agente di pattuglia a casa di Cindy Anthony, proprio per parlare del furto dell'auto. La polizia ben presto scopre che in quella casa vivono George e Cindy Anthony, insieme a sua figlia Casey e alla sua bambina di due anni Kaylee. Casey è stata lontana da casa per settimane. È tornata giusto quella sera e Cindy di conseguenza non vede sua nipote da parecchio tempo. In casa regna la confusione più totale, in quanto la madre urla contro la figlia, la figlia urla contro la madre, fino a quando non viene fuori una rivelazione sconcertante. A Cindy non è solo stata rubata l'auto, ma anche la sua nipotina Kaylee è scomparsa. Cindy è preoccupatissima, è fuori di sé, è infuriata contro sua figlia, perché ha appena appreso della scomparsa di Kaylee. George Anthony, il padre di Casey e il marito di Cindy, cerca di consolare come può sua moglie. Ma anche lui è scioccato dalla notizia, stenta a crederci. La polizia a questo punto non deve più occuparsi di un'auto rubata, ma della scomparsa di una bambina di due anni. Cindy sostiene che è passato ben un mese da quando Casey o chiunque altro abbia visto Kaylee. Gli agenti provano a calmare le persone presenti in casa, separando i familiari che stanno litigando. Poi, ecco che parlano con loro separatamente per farsi raccontare i dettagli e ricostruire i fatti. Ma, prima di continuare a parlare delle indagini della polizia, facciamo un passettino indietro. La famiglia Anthony è una famiglia normalissima. George, il padre di Casey, è un ex poliziotto, mentre la madre di Casey, Cindy, fa l'infermiera. Gli Anthony non solo hanno cresciuto loro figlia, ma anche la loro nipotina. Casey da piccola è molto vivace, ha tantissime energie, è molto amata e crescendo in effetti va d'accordo proprio con tutti. Si fa tanti amici e inizia a frequentarsi con diversi ragazzini. Casey e Cindy sono molto unite, passano molto tempo insieme, vanno spesso a fare shopping o a fare lunghe passeggiate. Chiacchierando moltissimo. A scuola Casey è piuttosto brava, anche se non eccella in nessuna materia. È una bella ragazza, conosce tante persone, persone che le vogliono bene e sembra essere destinata a fare grandi cose. Agli occhi dei suoi genitori, Casey è un'adolescente perfetta. In vista del diploma di maturità, gli Anthony preparano una grande festa a cui invitano parenti e amici. Ma, in realtà, loro insaputa, Casey ha abbandonato il liceo, quindi non avrebbe potuto mai conseguire il diploma. Nonostante ciò, i genitori celebrano comunque la festa. All'età di 19 anni, la vita di Casey subisce una grande svolta. Rimane in dolce attesa e lo confessa immediatamente a sua madre. La ragazza teme le ire di sua madre. Ma in realtà, Cindy si limita ad abbracciare Casey dicendole «Sarò nonna, è fantastico! Sarai davvero una madre meravigliosa, Casey!». Sicuramente questa situazione per Casey si sarebbe potuta rivelare drammatica, in quanto i suoi genitori avrebbero potuto impedirle di continuare quella gravidanza o ancora mandarla via di casa. Invece, la famiglia Anthony reagisce con gioia alla notizia di Casey. Non si fanno neanche domande quando la ragazza non menziona chi sia il padre del bambino. Non gliene importa. Il 9 agosto del 2005, Casey dà la luce Kaylee, Marie e Anthony. Ora però, torniamo al 15 luglio del 2008. Quando la polizia è intervenuta a casa degli Anthony, si fa un'idea più chiara riguardo le loro dinamiche familiari. A questo punto gli investigatori si concentrano su Kaylee, che è scomparsa. Gli agenti quindi allertano il detective di turno per le persone scomparse, l'agente Yuri Malich. Il detective appena arriva sul posto inizia immediatamente con le indagini. E Casey gli spiega di aver lasciato la figlia dalla babysitter un mese prima, ma la babysitter si è rifiutata di restituirgliela. Yuri Malich e tutti gli agenti presenti rimangono allebiti. Quella è una storia bizzarra. Non è certo un comportamento normale quello tenuto da Casey, diciamolo chiaramente. Di solito, quando sparisce un bambino, i genitori ne denunciano immediatamente la scomparsa. Il problema che si trovano davanti gli investigatori non è certo di poca portata, in quanto dalla scomparsa di Kaylee è passato del tempo, tanto tempo, ed ora c'è la necessità di ricostruire ciò che è accaduto in quei 30 giorni. Yuri Malich quindi interroga Casey su ciò che è accaduto il 16 giugno del 2008, ossia il giorno della scomparsa di Kaylee. Casey dice al detective che lavora come organizzatrice di eventi agli Universal Studio, un parco divertimenti situato ad Orlando in Florida. Quella mattina, prima di andare a lavoro, Casey lascia la bambina dalla babysitter, passa a riprenderla quando ritorna da lavoro e scopre che non c'è nessuno. La babysitter è sparita con sua figlia. Casey preoccupata prova a contattarla, ma il cellulare risulta irraggiungibile. Non sapendo che fare, la donna decide di aspettarla fuori casa per un po', pensando che sarebbe tornata prima o poi. Successivamente si reca in tutti i luoghi in cui di solito la babysitter porta Kaylee. Casey va a controllare al parco, al centro commerciale, ma niente non trova più, né la donna né sua figlia. Casey a questo punto non se la sente proprio di tornare a casa. È imbarazzata. Sa che i suoi genitori le avrebbero immediatamente chiesto di Kaylee e lei non avrebbe assolutamente saputo come rispondergli. Cosa avrebbe dovuto dire ai suoi genitori? Non ho Kaylee perché la babysitter se l'è presa? Assolutamente no. Casey vuole cavarsela da sola, quindi non può far sapere ai suoi cosa sia accaduto. Inoltre Casey ha il timore di essere giudicata come una pessima madre. Ed è in effetti molto grave ciò che è accaduto. Nonostante la cosa più sensata e giusta sia ovviamente chiamare la polizia, Casey si rifugia a casa del suo fidanzato. In effetti i 30 giorni in cui sparisce per poi ricomparire dai suoi genitori, il 15 luglio, sta a casa del suo ragazzo, Tony, che i suoi genitori ancora non hanno conosciuto. Casey dice al detective Malich di non aver mai chiamato la polizia perché teme che la babysitter possa far del male a Kaylee. A questo punto resta solo il nome della babysitter che avrebbe rapito Kaylee. La donna si chiama Zenaida Gonzales e tutti la conoscono come Zenni de Nenni. Casey fornisce una descrizione fisica della donna, che per metà è portoricana e per metà è africana, ed ha 25 anni. A quanto dice Casey, Zenaida è sempre stata la sua babysitter. Si è sempre occupata di Kaylee, lo fa da due anni ormai. Il detective Malich guarda Casey e le dice convinto, deve portarci a casa sua. Sa dove abita, quindi ci porti immediatamente dalla babysitter. Casey li porta fino al palazzo, poi indica col dito un appartamento dicendo sicura Zenaida abita lì. Il detective Malich quindi sale le scale e bussa alla porta che Casey gli ha indicato, ma non risponde nessuno. Però il detective riesce a sbirciare all'interno dell'appartamento da delle finestre, in quanto sono prive di tende e si rende conto che in quella casa non ci sono proprio mobili. Di conseguenza l'appartamento sembra disabitato. La polizia non ha nulla che possa condurli a Zenaida Gonzales. Nonostante ciò cercano la donna per tutta la notte nella città. Giunta all'alba lasciano Casey a casa dei suoi genitori. La polizia decide di rivolgersi ai media per fare qualche progresso. E da quel momento il caso acquista una rilevanza nazionale. Non solo c'è una bambina scomparsa, ma è addirittura scomparsa ad Orlando, in Florida. È considerato un paradiso per i bambini. La protagonista del caso è una giovane mamma. Insomma, è coinvolta dalla classica famiglia americana. Una madre affida la figlia a qualcuno di cui si fida e di colpo la bambina viene rapita. Questo è un vero incubo che per gli americani si trasforma ben presto in un fantastico show da seguire ogni singolo giorno. Nel frattempo il detective Mellich continua a indagare sulla babysitter. Torna quindi a casa di Zenaida Gonzales per ottenere più informazioni possibili sul suo conto. Parla dunque con l'amministratore del condominio indicato da Casey, il quale lo informa che quell'appartamento è vuoto da mesi. Ma non è finita qua. L'amministratore verifica anche che in quel condominio non c'è mai stata un'inquollina di nome Zenaida Gonzales. Questi per gli investigatori sono dei segnali inquietanti. Pensano a Casey. È lei che ha mentito tutto il tempo. Gli ha condotti lei in quell'appartamento. Casey è dato di lavorare come organizzatrice di eventi alla Universal Studios. Inoltre ha anche sostenuto di aver raccontato del rapimento a due suoi colleghi. Per rintracciare quindi i colleghi e ricostruire la dinamica del rapimento, il detective Melich si dirige alla Universal, incontra il presunto responsabile di Casey e scopre che in realtà la donna non lavora più lì da più di due anni. E neanche i due colleghi che ha nominato hanno mai lavorato lì. Di nuovo, Casey mente. Ma perché non racconta la verità? Chi o cosa stanno scondendo? Dov'è Casey? I fatti sono questi. C'è una bambina scomparsa da un mese e tutto ciò che ha raccontato sua madre in quel momento alla polizia è falso. È tutto falso. Per fare un po' di chiarezza, il detective Melich e il sergente John Allen le tendono una trappola. Infatti vanno a recuperare Casey per portarla agli Universal Studios e osservare le sue reazioni una volta arrivati. Casey, come si sarebbe comportata? All'ingresso dei dipendenti c'è ovviamente il responsabile della sicurezza. Casey si avvicina e parla con la guardia che la osserva alquanto perplesso fino a quando le dice Mi dispiace signora, non abbiamo dipendenti che si chiamino Casey e Anthony. Casey risponde subito, oh no no no, io lavoro qui, ricontrolli. Casey pronuncia il nome del suo capo e il numero dell'interno in cui lavora e la guardia le risponde di nuovo che quei nomi non risultano nella lista dei dipendenti. Gli agenti intanto osservano il comportamento di Casey. Ad una bugia ne segue un'altra e poi un'altra ancora più grande. Casey insiste così tanto che alla fine riesce ad entrare nell'edificio. Gli agenti la seguono e si rendono conto che la donna saluta tutte le persone che incrocia. Peccato che quelle persone guardano poi gli agenti come a dire Ma quella chi è? Perché mi ha salutato? Alla fine Casey imbocca sbagliando un corridoio che non porta da nessuna parte. Quindi si volta, guarda il detective Malich e l'insergente Allen e dice Finalmente, la verità, ossia io non lavoro qui. Le autorità la guardano e gli dicono a Casey, lo sappiamo, volevamo solo metterti alla prova. Ed è giunto il momento quindi di farsi un'altra chiacchieratina con Casey. Le autorità sono convinte che a questo punto avrebbe detto loro la verità. Avrebbe detto loro dove si trova la bambina. Il detective Malich parte a interrogarla. È determinato a risolvere il caso. Inizia a chiedere insistentemente dove si trova Kaylee. Cosa è successo a Kaylee? Ma l'unica cosa che ripete in continuazione Casey è Io non lo so. Per poi aggiungere L'ultima volta che l'ho vista stava con la babysitter Zenaida. Ve l'ho già detto. Gli agenti a questo punto ribattono dicendo Non è vero Casey, siamo stati in quel palazzo. Quell'appartamento è vuoto almeno da marzo. Inoltre abbiamo anche controllato le telecamere di videosorveglianza. E non ti si vede. Non sei mai andata a portare Kaylee da lei, Casey. Mai. Casey nonostante l'evidenza della situazione Insiste nel dire che non sta mentendo E che lei sua figlia l'ultima volta l'ha vista con la sua babysitter. Durante l'interrogatorio gli investigatori si rendono conto Che c'è qualcosa che non va in Casey. In quanto in lei non è presente alcun tipo di angoscia o preoccupazione. E questo è strano, sembra quasi che la cosa non la riguardi. Insomma, non pare affatto preoccupata per sua figlia. Gli investigatori dopo ore di interrogatorio Si rendono conto che Non vale neanche la pena continuare. In quanto si torna sempre allo stesso punto. La bambina l'ha presa la babysitter, Zenaida Gonzales. Quindi chiudono l'interrogatorio. Però non fanno tornare a casa Casey. Infatti per smuovere le acque I detective arrestano Casey Con l'accusa di abbandono di minore. In questo modo si sarebbe sicuramente decisa a parlare. Così credono le autorità. Ma la loro idea si rivela velocemente sbagliata. Non è così che vanno le cose. Infatti Casey non parla, non dice nulla. Quindi, viste le circostanze, Quando a Casey viene concessa una chiamata, La polizia registra ogni singola parola. Casey chiama sua madre al telefono dicendole Mamma, mi hanno arrestata senza motivo. Mi stanno accusando di qualcosa che non farei mai. Vogliono dare la colpa a me. Ma mamma, io non c'entro. Cindy, la madre di Casey, le dice Tesoro, non so quanto tu sia coinvolta. Non mi dici dove si trova. Casey ribatte Perché non lo so dove si trova, ma stiamo scherzando? Cindy a questo punto dice Ma di chi è la colpa se sei in prigione? Te la prendi con me se sei in galera o con te stessa? Casey alla madre dice Non è colpa mia! Cindy ribatte dicendole Ma che significa non è colpa mia? Se solo gli raccontassi la verità al posto di mentire su tutto... Casey a questo punto taglia corto e dice a sua madre Fammi un favore, dammi il numero di Tony Adesso non ho più voglia di parlarti Basta! Casey vuole il numero di Tony Lazzaro Il suo fidanzato Quindi i detective decidono di rintracciare questo Tony per parlarci Per capire che tipo di ragazzo sia I detective si attivano immediatamente E raggiungono immediatamente l'appartamento del ragazzo Che condivide con il suo amico Clint House Clint sostiene che in effetti avere 20 poliziotti che ti piomano in casa E che iniziano a farti domande a raffica su una bambina scomparsa È un qualcosa di sconvolgente Per di più Tony Lazzaro, il fidanzato di Casey Cade letteralmente dalle nuvole I due ragazzi non hanno idea di dove sia Kaylee E si fanno anche due domandine Come mai Casey non ha detto loro niente? Non ha detto niente neanche al suo ragazzo Tony e Clint quindi parlano con la polizia Sono collaborativi e dicono tutto ciò che sanno Casey e Tony iniziano a frequentarsi verso la fine dell'aprile del 2008 Circa un mesetto dopo Casey fa per la prima volta ingresso a casa di Tony e Clint La ragazza viene descritta da Clint come una persona divertente, esuberante, alla mano, simpatica Con cui è piacevole uscire Casey quando porta la figlia da Clint e Tony La trovano entrambi adorabile Clint sostiene che Kaylee sia la bambina più dolce che abbia mai incontrato La prima volta che è andata a casa loro Kaylee aveva indosso questi enormi occhiali da sole Li ha guardati e ha detto Ehi come butta ragazzi Kaylee è una bambina davvero davvero sveglia Clint passa molto tempo con lei E sostiene che per essere una bambina di due anni è estremamente intelligente Sa contare fino a dieci in inglese e in spagnolo Distingue tutte le forme, tutti i colori Per quanto Clint abbia potuto vedere Casey è sempre stata una madre premurosa e amorevole Per poco tempo Casey va a trovare Clint e Tony con sua figlia E ci va per almeno tre volte a settimana Poi però, a partire dalla metà di giugno Casey inizia a presentarsi sempre da sola E non accenna mai alla scomparsa della figlia Ogni volta che Clint e Tony chiedono della bambina Casey risponde che è o con la babysitter o con i suoi genitori Di certo in quel periodo per Clint non è accaduto nulla di insolito o sospettoso La polizia è la disperata ricerca di indizi E mentre riesamina il fascicolo del caso Un particolare attira l'attenzione di John Allen Infatti dai tabulati telefonici risulta che Cindy Anthony, la madre di Casey, ha chiamato il 911 ben tre volte Non una, bensì tre Una chiamata in particolare Cindy l'ha fatta pochi minuti prima del loro arrivo E il contenuto di quella chiamata è alquanto particolare Le donne infatti al telefono dice Qualcosa non va Oggi ho ritrovato l'auto di mia figlia E puzza come se dentro ci fosse stato un cadavere Dopo aver ascoltato questa chiamata La polizia capisce che quell'auto va sequestrata E in fretta L'automobile in questione è una Pontiac Sunfire E appartiene alla famiglia Anthony Ma la usa solo Casey, è la sua auto personale I detectivi incaricano la scientifica di esaminare l'auto Quindi entrano tutti insieme nel garage E una volta all'interno si rendono conto di un qualcosa che è impossibile Passi in secondo piano Tutta la stanza è impregnata dall'odore nauseabondo dell'auto La quale puzza di decomposizione Un detective in particolare, ossia il detective Edwards Nota che nell'auto c'è una bambola della bambina e un pacchetto di pannolini E in quel momento si allarma In quanto chiunque abbia dei figli sa bene che si affezionano a dei giocattoli in particolare E quello è un elemento significativo In quanto se lasci tua figlia dalla babysitter Ma dimentichi ad esempio di lasciarli al pacco dei pannolini O il suo giocattolo preferito Torni immediatamente indietro Il fatto di aver visto proprio quei due oggetti sull'auto Ha fatto pensare a detective Edwards Che a quel punto, forse, non stanno più cercando una bambina scomparsa Bensì senza vita I detective fanno intervenire l'unità cinofila Il cane gira attorno all'auto Annusa tutto tutto per bene Poi, se siede, si ferma Proprio di fronte al portabagagli dell'auto Punta insistentemente verso quel portabagagli Solo a quel punto gli esperti della scientifica aprono il bagagliaio di quella macchina Che a primo impatto sembra essere pulito Pare che qualcuno ci abbia passato l'aspirapolvere Quindi gli esperti iniziano a raccogliere le prove ancora presenti Facendo delle scoperte davvero importanti La scientifica rileva una grossa macchia sul rivestimento del portabagagli Dimensioni ricordano quelle del corpo di un bambino E quella situazione è fortemente sospetta La scientifica dunque stacca un pezzo di tappezzeria Col fine di farla analizzare Inoltre, l'ultimo cruciale elemento si trova anche quello nel portabagagli Vengono rinvenuti diversi capelli La polizia quindi chiama Cindy e George I genitori di Casey Proprio per interrogarli sulla macchina e avere chiarimenti Cindy spiega di aver chiamato dal 911 perché Casey la macchina l'aveva abbandonata L'auto infatti è rimasta davanti a un'agenzia bancaria senza benzina Ed è in effetti stata rimossa Loro l'hanno scoperto in quanto hanno ricevuto un avviso Di conseguenza sono dovuti andare al deposito per recuperare l'auto La polizia dopo aver iniziato in modo tranquillo Chiede a Cindy spiegazioni Sull'odore di cadavere Che ha denunciato lei stessa nella seconda chiamata Cindy dice durante l'interrogatorio queste parole Guardi È andata così Quando George ha aperto il bagagliaio Ha trovato un sacco della spazzatura Puzzava Nel sacchetto c'erano avanzi di pizza Che ormai era andata male Aveva un odore orribile Era proprio andata male Così abbiamo dovuto tenere anche aperto il garage C'è però un problema Perché la versione di Cindy Non combacia affatto con ciò che ha detto durante la chiamata al 911 Cindy Anthony ha detto che la macchina puzzava come se dentro ci fosse stato un cadavere John Allen guarda Cindy E le dice che durante la sua carriera Ha sentito sia l'odore del cibo andato a male Che quello di un cadavere Non sono odori simili Sono odori fortemente distinguibili L'uomo infatti dice a Cindy Non voglio mettermi a discutere con lei Ma io questo mestiere lo faccio da più di 12 anni Sono un agente esperto e quindi so riconoscere quell'odore Lei è un'infermiera Sarà stata in obitorio no? Cindy risponde Conosco l'odore di carne potrefatta L'odore di un corpo John le prende le mani e le dice Ecco e quindi non voglio insistere su questo argomento Possiamo dire di avere delle idee diverse Ma ora dobbiamo pensare a ritrovare Kaylee Cindy a questo punto chiede State cercando Kaylee viva o morta? Il detective insiste dicendo Stiamo cercando Kaylee Cindy Perché non sappiamo dove si trovi Non ne abbiamo idea Cerchi di guardare le cose dall'esterno So che è difficile Ma ci provi Finga che Kaylee non sia sua figlia Secondo lei Cos'è successo? Tutte quelle bugie Tutte quelle contraddizioni Tutte quelle storie Quelle prove Quelle persone che non sono mai esistite Che opinione si è fatta in cuor suo? Cindy neanche si dà del tempo per riflettere Risponde automaticamente con voce rotta dal pianto Io non lo so Dopo aver parlato con la polizia Cindy e George fanno spesso visita a Kaylee in carcere Cindy durante una visita a sua figlia dice Tesoro non stiamo bene Qualcuno stamattina ci ha detto che Kaylee è morta E Kaylee risponde E ma che sorpresa Una domandina Quale diavolo di madre risponde Sai che sorpresa? Parlando della presunta di partita della figlia Questa sì che è una reazione agghiacciante La polizia in ogni caso non ha indizi su cui lavorare Quindi continua la ricerca della babysitter Che secondo Kaylee avrebbe rapito sua figlia E alla fine una certa Zenaida Gonzales Spunta davvero fuori La donna viene convocata per un interrogatorio Zenaida sa dove sia Kaylee? La donna vive a Kissim Una cittadina poco lontana da Orlando Ma è una donna di mezza età E non giovane Come indicato più volte da Kaylee L'interrogatorio è serrato I detective le chiedono Conosce Kaylee e Anthony? La donna risponde No, non la conosco I detective continuano Conosce Kaylee e Anthony? La donna risponde allo stesso modo Sia No, non la conosco Altra domanda di detective Lei si occupava di sua figlia? Zenaida risponde Non ho mai lavorato per loro Gli investigatori dopo aver ascoltato Zenaida Capiscono che non ha nulla a che fare col caso Quindi la storia del rapimento Che Kaylee ha raccontato alla polizia Anche in questo caso Si è rivelato un'enorme bugia E' a questo punto che i detective Iniziano a sospettare di Kaylee Pensano che sia proprio lei Quella che ha fatto sparire sua figlia Da quando è dietro le sbarre Kaylee tiene lontani gli investigatori Poi si rende conto di aver bisogno di un buon avvocato E una detenuta gliene consiglia uno Jose Baez Lui è decisamente il tipo di avvocato da contattare Se sei nei guai E Kaylee e Anthony è nei guai fino al collo Appena l'avvocato accetta di difendere Kaylee Impedisce ai detective di vederla Intanto nel disperato tentativo di ritrovare Kaylee I nonni Ossia Cindy e George Organizzano una massiccia campagna di ricerche Stampano volantini Stampano magliette Contattano anche Tim Miller Il fondatore e il direttore di Texas EqSearch Un'organizzazione che cerca persone scomparse Che ovviamente non si tira affatto indietro Il numero di persone che si sono offerte a partecipare alle ricerche È in effetti incredibile Infatti si sono presentati in 4200 Purtroppo però Nessuno ottiene nessun risultato Nonostante le numerose ricerche Il caso ormai è scoppiato alla grande in televisione E qualsiasi notiziario si apre parlando proprio del caso di Kaylee e Anthony La Florida permette la rapida diffusione Di documenti di pubblico dominio Quindi molte informazioni escono allo scoperto praticamente subito Immediatamente Ad esempio I nastri registrati tra Kaylee e i suoi genitori in carcere La gente rimane allebita La sua freddezza La sua indifferenza Indigna tutto il paese Poi ecco che viene diffusa la chiamata che Cindy ha fatto al 911 Riguardo l'auto di sua figlia e la puzza di cadavere Da questo momento cambia tutto Kaylee e Anthony diventa la donna Anzi la madre Più odiata d'America Mentre l'opinione pubblica reclama giustizia Kaylee paga la sua cauzione E il 21 agosto viene scarcerata e messa agli arresti domiciliari Mentre il carrozione mediatico è in furia La polizia cerca di istruire metodicamente un caso di omicidio La cosa più importante è avere prove concrete che dimostrino sia deceduto qualcuno In questo caso i detective credono che la prova concreta sia proprio il contenuto del portabagagli Infatti sono arrivati i risultati delle analisi sui campioni di tappezzeria e dei capelli ritrovati Nell'auto di Kaylee La polizia ritiene di avere sufficienti prove per dimostrare che nel bagagliaio di quell'auto Ci sia stato proprio un corpo in decomposizione A questo punto ci sono elementi sufficienti per incriminare Casey per l'omicidio di Kaylee La donna viene incriminata ad ottobre Però la polizia non sa esattamente cosa si è successo a Kaylee Dove è venuta a mancare? Come è venuta a mancare? Arriva la mattina dell'11 dicembre del 2008 Quando un adetto ai contatori, un certo Roy Si ferma in un'area boschiva per fare i suoi bisogni E fa una scoperta sconvolgente Infatti l'uomo trova qualcosa di strano sul terreno Lo muove con un bastone Si rende conto di cosa sia realmente Si spaventa e corre al suo furgone per chiamare il 911 Quell'uomo, Roy, ha trovato un teschio La polizia si precipita sul posto e isola la scena del ritrovamento Mentre gli antropologi forensi Vengono chiamati per la raccolta E la catalogazione dei resti Tra questi c'è Ginger Vaglia La responsabile di medicina legale della contea di Orange Spetta quindi a lei identificare il corpo E determinare le cause e la modalità del decesso La scena è a 5 metri dalla strada In mezzo a una folta vegetazione Sono presenti due grossi sacchi di plastica nera della spazzatura Insieme a un grosso sacco di tela Nel sacco in effetti ci sono delle ossa Così come lì, intorno, nella vegetazione Le ossa sono secche Non presentano alcuna traccia di tessuto molle Il che significa che si trovano lì da tempo Peraltro guardando le ossa è lampante Quelli sono i resti di un bambino Per identificare con certezza i resti La dottoressa Jean Manda dei campioni di ossa Da sottoporre ad un test del DNA Mentre la notizia Ci mette ben poco a trapelare Inoltre è significativo il luogo In cui quei resti sono stati ritrovati Stanno vicinissimo a casa degli Anthony A circa 400 metri di distanza Praticamente quelle ossa erano nel loro giardino A momenti Il 18 dicembre 8 giorni dopo aver rinvenuto I resti del corpo La dottoressa Jean In una conferenza stampa Conferma che quei resti appartengono a Kaylee e Anthony La modalità è omicidio Ma dato che il corpo è decomposto La dottoressa chiarisce Che non ha assolutamente idea Del modo in cui si è venuta a mancare Kaylee Nonostante ciò ci sono abbastanza informazioni Per parlare di omicidio Ma perché? Cos'è questo? Un delitto dalle modalità sconosciute? E in cosa ci si basa quindi In questo caso? Ci si basa sulla modalità della morte In questo caso il corpo rinvenuto È all'interno di dei sacchi della spazzatura E è nascosto alla vista Non c'è spiegazione logica per questo Se non l'omicidio La polizia sospetta la tempo che Casey Abbia fatto del male a sua figlia Ed ora con rinnovata convinzione Emette un mandato di perquisizione Della sua casa La speranza è quella di trovare Un collegamento tra gli oggetti rinvenuti Sulla scena del crimine E quelli presenti in casa Gli agenti scoprono così Che la stanza di Kaylee È decorata a tema Winnie the Pooh Ripensano alla coperta di Winnie the Pooh Ritrovata proprio sulla scena del crimine E presumono provenga proprio da lì Il sacco di tela si rivela essere Un sacco porta bianchieria Che viene venduto in coppia In un negozio della zona Ebbene gli agenti si rendono conto Che la borsa di tela trovata Sulla scena del crimine Non è nient'altro Che un sacco porta bianchieria L'altro sacco porta bianchieria Casey C'è la casa Se gli oggetti trovati Sulla scena del delitto Provengono da quella casa È lampante Che la storia del rapimento È sempre stata falsa E in effetti Pare proprio che sia così Tutte le prove In possesso alla polizia Suggeriscono che Casey Abbia colpito Kaylee È così che viene accusata Di omicidio di primo grado Casey Anthony È su tutti i notiziari Ogni giorno c'è un dettaglio nuovo Su cui parlare E secondo le leggi della Florida La polizia è obbligata A fornire ai media Documenti Rapporti Deposizioni Quindi quando viene rilasciata Una nuova prova Le speculazioni su di essa Si sprecano alla grande Per i media Quella è una storia Sensazionale Però di facile risoluzione Ogni sera c'è una novità Da raccontare E per il pubblico Rappresenta la puntata giornaliera Di una sopopera In real life Ancora prima Dell'inizio del processo C'è una grossa fetta di pubblico Che ha già deciso Casey È colpevole D'altro canto Una madre non trova più Una figlia Di due anni E non allerta la polizia Per più di un mese Per l'opinione pubblica È ovvio Casey Anthony È colpevole Però dall'altro lato C'è l'avvocato di Casey Baez Che tiene continuamente Conferenze stampa In cui proclama L'innocenza della donna Il 9 maggio del 2011 La selezione della giuria Ha inizio In questo caso Il più grande ostacolo Della selezione Di una giuria imparziale È l'attenzione dei media Trovare qualcuno Che non conosca Il caso Anthony È impossibile I media hanno condizionato Così tanto questo caso Che la comunità Di Orange Country Ormai satura Non risulta più imparziale Eppure il giudice L'ha capito bene Quindi anziché Spostare il processo Da qualche altra parte Ha scelto giurati Provenienti da fuori E li ha fatti riunire Ad Orlando Arriva il 24 maggio Del 2011 E il processo Inizia A capo dell'accusa C'è Linda Drain-Bardick Che parte Con la sua ring iniziale E enfatizza Che alla luce Delle bugie di Casey E del suo comportamento A cui si aggiungono L'auto abbandonata E il forte odore Di decomposizione La donna È responsabile Della dipartita Di Kaylee Di conseguenza Colpevole di omicidio La vera domanda è Perché? Perché l'ha fatto? L'accusa Crede che il movente Di Casey Sia legato Al suo passato burascoso E gli investigatori In effetti Ne hanno la prova In quanto hanno interrogato Un'amica di infanzia Di Casey Una donna Di nome Chio Marie Cruz La ragazza racconta Che quando Casey Era incinta Non aveva assolutamente Intenzione Di tenere il bambino Per l'esattezza Quando Casey Scopre di essere incinta Dice alla sua amica Che vorrebbe darlo in adozione Poi però Qualche ora dopo La richiama Dicendole che sua madre Le ha detto Che avrebbe dovuto Assolutamente tenere il bambino Non può darlo in adozione Anche se lei Non ha alcuna intenzione Di tenerlo Casey Vive con i suoi genitori E dipende da loro Di conseguenza Se sua madre Le ha detto Di tenere il bambino Casey È stata costretta a farlo Il fatto che Casey Non volesse Kaylee Si è rivelato importante All'inizio Per la tesi dell'accusa In quanto dimostra Che dentro di lei C'era la voglia Di vivere una vita Senza figli E se Casey Semplicemente Rivoleva indietro La sua vecchia vita Le conclusioni dell'accusa Sono quindi Che Casey Anthony Non voleva più Essere madre Ora Tocca all'avvocato Baez Fare la sua Esposizione introduttiva Alla giuria E deve riuscire In qualche modo A ribaltare la situazione Per la difesa La posta in gioco È alta Non solo deve giustificare Le ripetute bugie Della sua cliente Ma deve spiegare Alla giuria Come può una madre Perdere le tracce Di sua figlia Per 30 giorni E non chiamare la polizia E non avvisare Nessuno Baez sostiene Che in realtà Kaylee Non è mai scomparsa Infatti la mattina Del 16 giugno Cindy è a lavoro Mentre Casey e George Sono a casa Ma non riescono proprio A trovare Kaylee Non sono dove si sia cacciata Fino a quando George Esce E la trova in piscina L'avvocato sostiene Che Kaylee Si è annegata Nella piscina di famiglia Il 16 giugno del 2008 George attacca Casey Le urla in faccia Le dice Guarda cosa hai fatto È colpa tua Se è successo questo Tua madre Non ti perdonerà Mai Casey così Implora suo padre Gli chiede aiuto Quindi il padre Pensa a un modo Per liberarsi Del corpo di Kaylee E per salvare La vita alla figlia Quindi Baez Sostiene che Non è stata la sua cliente A liberarsi del corpo Assolutamente no È stato suo padre È stato lui A tirare fuori La bambina Dalla piscina Ad avvolgerla Nella sua copertina Di Winnie the Pooh E a liberarsi Del corpo E colpo di scena Baez sostiene Che George Usa lo stesso metodo Quando deve seppellire Gli animali domestici In giardino Moltissimi si sono Domandati se i genitori Di Casey Abbiano coperto La morte di Kaylee E le dichiarazioni Di Baez Non fanno altro Che gettare Benzina sul fuoco Infatti L'opinione pubblica Rivalta totalmente La sua idea sul caso In pratica La difesa In un colpo solo Ha fatto crollare Tutte le certezze Dell'accusa Baez prosegue Con la sua esposizione Affrontando Uno dei maggiori ostacoli Per la difesa Ossia Le innumerevoli Bugie di Casey L'avvocato Spiega che è vero La sua cliente È una bugiarda Ma Spiega anche Il perché Delle sue menzogne Infatti È stato suo padre Insegnarle a mentire Per coprire Un oscuro segreto Di famiglia L'avvocato Sostiene che Tutto inizia Quando Casey Ha solo otto anni E suo padre Inizia ad andare In camera sua Per fare violenza Su di lei Casey ha quindi Imparato a vivere Una vita Di inganni E menzogne Per coprire Quel problema Che aveva a casa Ecco perché Casey Ha continuato a mentire Riguardo sua figlia Suo padre Esercita su di lei Questo potere Da quando è bambina Il processo riprende L'accusa Provò a confutare Le dichiarazioni di Baez Chiamando a testimoniare Proprio George Anthony Il padre di Casey Ovviamente La prima cosa Che gli viene chiesta È se abbia mai fatto Violenza su sua figlia E l'uomo risponde No signore Mai Inoltre aggiunge che Se Kaylee È annegata Lui Non si trovava in casa In quel momento A sostegno delle dichiarazioni Di George L'accusa Presenta nuove prove In quanto Ci sono le registrazioni Delle visite in carcere Tra Casey E suo padre Nel periodo Tra l'arresto E il processo Casey dice in continuazione A suo padre Che gli vuole bene Che è sempre stato Un ottimo padre E insomma Una figlia Vittima di violenza Difficilmente si esprime In questo modo Nei confronti Del suo carnefice Casey e suo padre Pare abbiano Un rapporto Totalmente diverso A questo punto Tocca la difesa A fare delle domande A George Anthony E Baez Non nomina assolutamente Le violenze Bensì chiede spiegazione Su un fatto avvenuto Dopo l'identificazione Di resti di Kaylee Alla fine del gennaio 2009 George scompare Guida fino ad Eitona Beach Va in un hotel Molto lontano E cerca di farla finita E a questo punto Che al banco dei testimoni George crolla E inizia a piangere Prima lo hanno accusato Di aver fatto violenza Su sua figlia Poi di aver occultato Il corpo della nipote E alla fine Dicono a tutti Che ha tentato Di farla finita Perché dopo il ritrovamento Dei resti Si sentiva in colpa La verità È che George Ha tentato di farla finita Perché dopo il ritrovamento Dei resti Ha avuto un crollo emotivo L'accusa mette in ballo Diversi indizi Partendo dall'auto di Casey Come vi ho già detto Appena l'auto è arrivata Nel laboratorio Della scientifica La prima cosa Che hanno notato È l'odore Gli investigatori Hanno notato L'odore terribile Che c'è in quell'auto Di conseguenza Hanno portato un cane Specificatamente addestrato Per reagire All'odore Di cadaveri E quest'ultimo Ha indicato Il portabagagli Ossia il luogo Da cui proveniva L'odore Ciò sta a significare Che sicuramente C'è stato un corpo In quel bagagliaio Oltre all'odore È anche evidente Una macchia Sul rivestimento Interno Del portabagagli La grandezza Di questa macchia Ricorda proprio Quella di un bambino Quindi considerato L'odore E la grandezza Di questa macchia È piuttosto complicato Non associare Le due cose Gli investigatori Inviano Campioni Della tappezzeria Del bagagliaio Ad un ricercatore scientifico Il dottor Arpad Vass L'uomo ha studiato La decomposizione chimica Secondo il dottor Vass Quando una persona muore Il corpo comincia lentamente A decomporsi E a riempirsi di gas Si tratta di gas putridi Che poi vengono rilasciati Nel luogo in cui si trova il cadavere Vass Ha sviluppato una tecnica In grado di identificare La presenza di gas Di decomposizione In un campione d'aria In pratica Il tessuto del portabagagli È stato riposto In un barattolo di vernice Vuoto e sigillato Il gas è fuoriuscito Dal tessuto E si è raccolto Nel barattolo Quindi successivamente È stato estratto Questo campione di gas Ed inserito In un dispositivo Atto A separare Le singole sostanze chimiche Per identificare Con certezza Quali sostanze Fossero presenti Nel portabagagli Il dottor Vass È un dottore brillante E dopo aver analizzato Tutti i dati Testimonia per l'accusa Vass sostiene Che in quel bagagliaio Ci deve essere stato Prima o dopo Un corpo Per dimostrare Che si tratti Del corpo di Kaylee Entrano in azione Anche i capelli Che sono stati prelevati Dal bagagliaio E analizzati Al microscopio Un capello in particolare È lungo 23 cm È castano E non è trattato Da un capello Oggi è anche possibile Effettuare Un test del DNA Mitocondriale Estratto dal fusto Del capello Il DNA mitocondriale Viene trasmesso Solo dalla madre Di conseguenza Quando hanno analizzato Il profilo mitocondriale Di quel capello Hanno scoperto Che appartiene A parenti materni Di Cindy In pratica può essere Di Kaylee Di Casey O ancora di Cindy Ma data la lunghezza E il fatto Che non sia trattato Rende chiaro a tutti Che sia di Kaylee Dopo aver presentato Le prove rinvenute Nell'auto L'accusa deve affrontare Una questione difficile Infatti alle giurie Piace che tutto Sia presentato Con estrema chiarezza E uno dei compiti Più importanti Dell'accusa È spiegare alla giuria Come sia venuto A mancare Kaylee Ancora una volta Entra in gioco Arpad Bass Che quando ha completato Le analisi del gas Sprigionato dalla tappezzeria Ha trovato Una sostanza chimica Che non avrebbe Dobuto trovarsi In quel campione A quei livelli Ossia Il cloroformio Il cloroformio In realtà È un prodotto Della decomposizione Ma secondo il dottor Vass È presente In quantità Davvero esagerate E pensandoci È una sostanza chimica Che può essere usata Per far perdere Essenza al prossimo Quindi Una teoria Su cui l'accusa Ha lavorato È l'ipotesi Che Casey Abbia usato Del cloroformio Per far addormentare Kaylee Garantendole Una morte Meno dolorosa Ma C'è altro A sostegno Della teoria Dell'accusa Infatti Sul computer A casa degli Anthony Sono state fatte Delle ricerche Su come fare In casa Il cloroformio E in effetti Il cloroformio Con una ricerca Su internet Si può fare A casa Non è assolutamente Difficile recuperare Gli ingredienti Che occorrono Il punto è che In questo caso Si mette in mezzo Cindy E sostiene Che in realtà Lei Stava digitando Clorofilla Ma E Ha sbagliato Ed è uscito fuori Il cloroformio Gli avvocati Gli fanno notare Che quando È stata avviata Quella ricerca Su google Lei Si trovava Lavoro Ma nonostante questo La donna Continua a insistere Sul fatto che Lei ha fatto Quella ricerca Ha digitato Clorofilla Ed è uscito fuori Cloroformio A mio parere Questa in me È una cavolata Però Proseguiamo Mentre la difesa Continua a sostenere Che la morte di Kaylee Sia stata un incidente E sia venuta a causa Di un annegamento In piscina L'accusa Chiama la responsabile Di medicina legale Della contea di Orange La dottoressa Jen La donna dice Che il fatto Che sia stata gettata In un campo All'interno Di Dei sacchi Della spazzatura Indica chiaramente Che si è cercato Di nascondere il corpo La dottoressa E i suoi colleghi Hanno analizzato Ogni osso Rinvenuto Per stabilire le cause Della morte Colpi Feriti da coltello O qualsiasi altra Traccia di corpo Contundente E non hanno trovato Alcun tipo di trauma Però Quando hanno rinvenuto Il cranio Si sono resi conto Che è presente Del nastro adesivo Grigio Sulla parte inferiore Della mandibola Infatti il cranio E la mandibola Sono uniti tutti insieme E l'unica cosa Che può averli fatti Stare uniti È proprio il nastro adesivo Grigio Quindi Quel nastro adesivo È sempre stata L'unica prova Che può giustificare Un delitto Quel nastro adesivo Copre il naso E la bocca Di Kaylee Ecco perché È rimasto attaccato Fino a tenere insieme La mandibola E il cranio Dopo aver collegato Tutte le prove L'accusa È pronta a dichiarare Come Casey Ha intenzionalmente Fatto del male a Kaylee La teoria dell'accusa È che Casey Abbia fatto perdere I sensi a Kaylee Quel pomeriggio Col cloroformio Poi usa il nastro adesivo Come arma del delitto Mettendoglielo sopra Il naso E la bocca L'ha successivamente avvolta Nella sua copertina Preferita di Winnie the Pooh L'ha messa In una sacca a porta bianchieria E poi dentro alcuni sacchi Della spazzatura Ha fatto un nodo L'ha caricata Nel bagagliaio dell'auto Ed è andata a casa Del suo ragazzo Il giorno dopo Probabilmente Durante la notte È uscita Si è addentrata All'interno di un bosco Lì vicino Ha abbandonato il sacco Ed è andata avanti Con la sua vita Ma resta ancora Un grande punto di domanda Perché mai Casey Avrebbe dovuto far fuori Kaylee? L'accusa a questo punto Deve dimostrare Che nei 30 giorni In cui Kaylee Non si trova Casey è completamente immersa Nella sua nuova vita Che non avrebbe mai condotto Con una bambina Di due anni e mezzo Al seguito L'accusa chiama Testimoneare Tony Lazzaro Ossia l'ex fidanzato Di Casey Lui è l'uomo Con cui Casey Ha passato I 30 giorni In cui Kaylee È scomparsa È con lui anche Il pomeriggio del 16 giugno E quello è L'ultimo pomeriggio In cui Tony Vede Kaylee I due si vedono il pomeriggio Si salutano E poi si ridanno Appuntamento alla sera Tony Lazzaro sostiene Che la sera del 16 giugno Casey Si dimostra assolutamente felice È felice di stare con lui Di vedere O di passare del tempo insieme Non ha avuto alcun momento Di difficoltà Quella sera È sempre stata Spensierata Serena In generale Quei 30 giorni Casey Non ha mai parlato Di sua figlia Non ha mai detto qualcosa Del tipo Mi manca Vorrei vederla presto Devo andarla a prendere Dalla babysitter Niente di tutto ciò Nei 30 giorni in cui Kaylee È scomparsa Casey Pare ci tenga a vivere Quella vita Senza figli Che di fatto Anche Tony Il suo fidanzato Conduce Infatti Tony È un ventenne Fa il DJ E non ha certa intenzione Di mettere su famiglia Vuole solo divertirsi Tony Ha anche un coinquilino Che fa il DJ Di conseguenza Ogni venerdì sera Organizzano una festa In cui loro mettono i dischi Suonano E Casey Li segue Sempre Una sera e due Organizzano un concorso Per la donna più sensuale E Casey Partecipa a quel concorso E ci sono le foto Tante foto In cui Casey Si diverte da morire Balla in maniera provocante Con una tizia Mentre Sua figlia non c'è La gente si indigna moltissimo Quando vede queste foto D'altronde Casey Non pare affatto Preoccupata O spaventata Poco dopo La scomparsa di Kaylee Si gode Quella vita Spensierata Che ha dovuto interrompere Due anni prima Con la sua nascita La cosa quindi Prova a dimostrare Che Casey Non è mai stata Una mamma In lutto O preoccupata Bensì una donna Finalmente libera Dalla responsabilità materna E' questo il movente Per dimostrare Che Casey Ha intrapreso Questa nuova vita Libera dalla figlia L'accusa Chiama a testimoniare Anche un tatuatore Di nome Bobby Williams Ebbene Quel tatuatore Ha tatuato a Casey Sulla spalla Bella vita E' chiaro che per Byetz Questo processo E' una lunga battaglia In salita La difesa deve trovare Il modo Di usare Quelle stesse prove Presentandole da una nuova Prospettiva Completamente diversa Per convincere i giurati Dell'innocenza Dell'imputata In questo processo Ci sono tantissime prove Il punto è che la difesa Non ha niente da dimostrare Quindi L'accusa porta una serie di prove Contro Casey Mentre Byetz Non deve fare altro Che lanciare Dei ragionevoli dubbi La difesa inizia Mettendo in discussione La fonte dell'odore Nel portabagagli Di Casey Infatti Secondo Byetz Quell'odore Non arriva da nessun corpo No Niente affatto Pare che nel portabagagli Ci sia stato Uno sacco Della spazzatura Che Casey Ha scordato Di buttare A supporto di questa storia Cindy Anthony Va a testimoniare Anche se Vi ripeto Quando ha chiamato il 911 Ha detto chiaramente C'è odore di cadavere Però Quando è al banco di testimoni Cambia totalmente versione La donna dice che La fonte di quell'odore Non è nient'altro Che spazzatura putrefatta Inoltre Sostiene di aver usato Quelle parole Durante la telefonata Al 911 Solo per attirare L'attenzione della polizia E io qua mi sono chiesta Tu Madre Chiami la polizia Per dire Che nella macchina Di tua figlia C'è un odore strano E sembra che dentro Ci sia stato un cadavere Per attirare L'attenzione della polizia Siamo seri? Non lo so ragazzi Resto col mio dubbio Baez nel controinterrogatorio Dice Ad Arpad Vass Che se non era È la prima volta Che rilascio una testimonianza Davanti ad una giuria E il dottore in effetti Dice che è così E la tecnica del dottor Vass Non è una procedura standard Usata nei laboratori Degli Stati Uniti Almeno Non lo era al tempo Infatti fino ad allora Questo tipo di analisi Non è mai stata usata Per un processo E la difesa Questa situazione La sottolinea ben bene Poi Baez Inizia a mettere in dubbio La stabilità Dei metodi Del dottor Vass Parte contestando Le sue qualifiche Baez Dice a Vass La sua testimonianza Di oggi Si basa principalmente Sulla chimica Ma lei non è un chimico Vass risponde Beh No In effetti no Vass quindi ribatte Può dire ai membri Della giuria In cosa è laureato Vass risponde Sono laureato in antropologia A questo punto Baez quasi ride in faccia Al dottor Vass Dicendo Quindi mi spieghi un attimo Lei è laureato in antropologia Ma analizza i gas Nei barattoli In pratica Baez ha denigrato Il dottor Vass Uno scienziato Che ha dedicato La sua vita A questi studi Baez continua E questa volta Punta al cloroformio La difesa infatti Sostiene che La scoperta del cloroformio Nel bagagliaio Della macchina Non ha alcuna rilevanza Nel caso In quanto Il cloroformio Si trova praticamente ovunque Ad esempio È molto presente In detersivi E detergenti Quindi trovarlo In un bagagliaio Non è così strano In effetti Alla fine La difesa interroga L'uomo Che ha trovato I resti di Kaylee Per cercare di distruggere Totalmente L'apparato accusatorio L'uomo Chiamato testimoniare Sostiene di aver inserito Un bastone Nell'orbita del cranio E di averlo sollevato Per capire Bene cosa fosse In pratica Le prove sulla scena Del delitto Non hanno alcun valore In quanto Sono state contaminate Quindi Quegli elementi Non vanno considerati Le prove Sono inutilizzabili La difesa poi Si prepara a smontare La prova principale Dell'accusa Ossia il nastro adesivo Sui resti ossei Di Kaylee Baez Chiamati testimoniare Un rinomato patologo Il dottor Werner Spitz Un medico noto Estimato Il dottor Spitz Conduce un'autopsia Per conto suo Ed esamina il nastro adesivo Secondo l'uomo Dal momento che Di Kaylee È rimasto solamente Lo scheletro È impossibile Affermare Con assoluta certezza Dove si trovasse Il nastro in origine Non c'è niente Sulle ossa Di indicare La presenza di nastro adesivo E non c'è niente Sul nastro Di indicare Che sia stato applicato Sulla pelle Secondo il dottor Spitz Se il nastro adesivo Si fosse trovato Sulla bocca Di Kaylee Ci sarebbero state Altre prove A confermarlo Se quel nastro Infatti fosse stato A contatto Con la pelle di Kaylee Secondo il dottor Spitz Avremmo trovato Da una parte Il dna del colpevole E dall'altra Il suo dna Il dna di Kaylee Ma su quel nastro Non c'è traccia Di dna Alcuni però Me compresa Sostengono che La testimonianza Di Spitz Sia un po' Troppo forzata E in effetti È un po' Troppo forzata In quanto Il corpo di Kaylee È rimasto sotto il sole Quocente A più di 30 gradi Per 30 giorni Pensare che Le forze naturali Che hanno disintegrato La pelle Non abbiano disintegrato Anche il dna Di cui la pelle È composta È assurdo Un onnesimo punto Da trattare Per Byetz È il comportamento Che ha tenuto La sua cliente In molti hanno Testimoniato Per l'accusa Dicendo che Casey Ha detto di aver lasciato La figlia Dalla babysitter Ma la difesa Ha usato Quei testimoni Per capovolgere Totalmente L'attesi dell'accusa Come? Ebbene La difesa Chiede a tutti Quei testimoni Informazioni Sui rapporti Tra Casey E sua figlia Avevano per caso Assistito a degli Episodi di Negligenza O di violenza Ebbene Tutti questi testimoni Sono concordi No Non hanno mai assistito A episodi di Negligenza O violenza Mai Per quel che ne sanno Casey Era un'ottima madre Baez ora deve smontare Il movente ipotizzato Dall'accusa Ossia la voglia di Casey Di rifarsi una vita Senza figli A detta della difesa Essere madre per Casey Non era così difficile Come per delle altre Ragazze madri In quanto La ragazza viveva Con i suoi genitori Che le offrivano Vitto e alloggio La aiutavano con Kaylee Quindi Casey Desiderava davvero Liberarsi della piccola Secondo la difesa È impossibile Baez ha completamente Smontato la tesi Dell'accusa Dicendo Perché mai avrebbe dovuto Liberarsi della figlia Per fare una vita Un po' sopra le righe Dopotutto i suoi genitori George e Cindy Erano sempre presenti E pronti a occuparsi Di Kaylee Molti osservatori Sono piuttosto sorpresi Nel notare che Baez Non ha mai fatto riferimento Alle sue dichiarazioni Fatte all'inizio Del processo Nell'esposizione introduttiva Infatti Aveva parlato Di presunte violenze Fatte da George Su sua figlia Ma non vi ha mai più Fatto riferimento Perché? Ebbene perché Non vi era nessuna prova Di questo tipo Né tantomeno C'erano prove Che avessero un reale fondamento Sul fatto che Kaylee Fosse annegata Dopo settimane di testimonianze Giunge il momento Delle ringhe finali E a questo punto Il caso è in mano Alla giuria Il 5 luglio del 2011 Dopo circa 11 ore La giuria informa Il cancelliere Di aver raggiunto Il verdetto Casey viene dichiarata Non colpevole Di omicidio Ma viene dichiarata Colpevole Di 4 reati minori Tra i quali Aver mentito La polizia O staccolando Le indagini E mandando fuori strada Gli investigatori Fuori dal tribunale Però il pubblico È infuriato Secondo loro Quella non è la sentenza giusta La gente è sconvolta Non riesce a crederci Per tutti Quello è un caso Di colpevolezza Lampante Il pubblico Non è solo infuriato Contro Casey e Anthony Ma anche contro i giurati Che hanno deciso Per il suo destino Molti Purtroppo Hanno ricevuto Diverse minacce di morte Reiterate nel tempo Il problema a mio parere è uno L'accusa non ha affatto unito i punti Kaylee è morta? Sì Come? Dove? In che modo? Dove l'ha portata Casey subito dopo? Come è stata colpita? È stata tramortita col cloroformio? E come se l'è procurato esattamente Casey il cloroformio? L'ha acquistato? Se sì Dove? L'accusa a mio parere Non ha fornito un quadro completo Ha lasciato la possibilità ai giurati Di unire i vari puntini E loro non l'hanno fatto Perché era l'accusa che doveva unire i vari puntini Inoltre c'è da sottolineare Che la difesa è stata molto molto brava A sminuire l'accusa Casey viene quindi condannata Per quattro capi d'accusa Avrebbe dovuto scontare quattro anni Ma ottiene uno sconto di pena Per la buona condotta E il 17 luglio del 2011 Esce di prigione Casey è la donna più odiata d'America E infatti prova a stare un po' nell'oscurità Le dichiarazioni fatte durante il processo Hanno generato Gravi tensioni in famiglia Quindi Casey va a vivere da sola Per un po' vive con uno dei suoi avvocati Poi inizia ad essere una specie di nomade Tutti sanno chi è Tutti hanno un'opinione su di lei Tutta l'America la disprezza Nel gennaio del 2013 Una corte d'appello della Florida Revoca due delle quattro condanne di Casey Per aver mentito alle autorità Ma i suoi problemi legali Sono tutt'altro che finiti Infatti Zenaida Gonzalez La babysitter che Casey ha tirato in mezzo E che non c'entrava assolutamente nulla Li fa causa per diffamazione E l'EcuSearch L'agenzia di ricerche del Texas Che aveva speso tantissimo per ritrovare Kaylee Rivuole indietro parte di quei soldi Alla fine Casey Anthony Semplicemente dichiara bancarotta Raggiunge un accordo con l'EcuSearch Mentre la denuncia di Zenaida Gonzalez Viene respinta Poi nel maggio del 2016 Dai fascicoli del tribunale per la bancarotta Emergono delle accuse davvero sconvolgenti Infatti sepolte nel caso di bancarotta di Casey Anthony C'erano anche le accuse Di un membro del team della difesa Un investigatore privato di nome Dominic Casey Che aveva lavorato per il team difensivo durante il processo Ha rilasciato delle dichiarazioni Relative alla relazione tra José Baez E Casey Anthony Quelli sono documenti sconvolgenti E sostengono che José Baez Avesse il controllo assoluto su Casey E quest'ultima Fosse solo compiacente con lui Una volta pare che Baez Avesse organizzato un'intervista con i media E che Casey Anthony all'ultimo minuto Si fosse tirata indietro E gli avesse chiesto la cortesia di annullarla Lui avrebbe accettato Ma quel favore le sarebbero costati Tre favori orali La relazione tra l'avvocato e Casey Nelle settimane successive A quanto pare sarebbe degenerata Diventando sempre più sconveniente Dominic ha dichiarato nei documenti processuali Di essere andato in ufficio un giorno E di aver visto Casey uscire dall'ufficio di Baez Ridacchiando senza vestiti Dominic a questo punto Si è anche confrontato con Casey E lei ha confessato di pagare i servizi dell'avvocato Con favori intimi La spiegazione per Casey è molto semplice Dice che non ha abbastanza soldi per pagarlo Negli atti processuali Dominic sostiene che quando Baez l'ha ingaggiato Non gli ha chiesto di cercare una bambina Ma un corpo Baez avrebbe detto all'investigatore privato Di sapere che in realtà La colpevole è Casey Ecco perché gli dice di aver bisogno di lui Per ritrovare il corpo prima che lo facesse qualcun altro Quando il corpo di Kaylee è stato ritrovato Gli avvocati hanno iniziato a lavorare Ad una strategia difensiva Dominic infatti Sostiene di aver notato qualcosa di strano Osservando una foto della casa degli Anthony La scaletta rimovibile della piscina Era rimasta al suo posto Quindi sarebbe stato proprio lui a formulare la teoria Che Kaylee fosse annegata in piscina Jose Baez e Casey Anthony Ovviamente si affrettano a smentire le dichiarazioni di Dominic Ma quest'ultimo non si scompone Sostiene di sapere benissimo cosa aveva visto e cosa aveva sentito E di averne addirittura parlato con Casey Le accuse di Dominic e il digniego di Baez Non fanno che infittire il mistero Alimentando i dubbi su quanto sia accaduto a casa degli Anthony Quel 16 giugno del 2008 Secondo Cindy Anthony quel giorno è accaduto un terribile incidente La bambina è annegata e Casey è andata nel panico Ma George Anthony Crede che il tutto sia andato in una maniera molto diversa Infatti George sostiene che quella sia una storia troppo semplice In quanto se fosse successo davvero questo L'uomo pensa che sua figlia Avrebbe avuto almeno la decenza Il buon senso di chiamare il 911 Per dire qualcosa La verità come ad esempio Mia figlia è caduta in piscina Non respira Non so cosa devo fare Aiutatemi Il punto è che non è andata così George sostiene che la verità potrebbe trovarsi Nell'insolito comportamento Di Kaylee Nelle ultime settimane Prima della sua scomparsa George spiega che Kaylee è sempre stata una bambina in salute Ma a volte dormiva per 10, 12, 13 ore di fila Per lui la cosa era assurda E per di più quando magari la vedeva qualche giorno dopo La trovava strana, diversa Ad esempio aveva delle profonde occhiaie scure E i bambini di due anni solitamente Le occhiaie così tanto marcate e scure Non ce le hanno A meno che ovviamente non ci siano problemi George pensa che Kaylee Possa aver dato a Kaylee Dei medicinali per farla dormire Come l'oxanax Infatti a lungo andare L'amico dell'ex fidanzato di Kaylee Clint House Pensa proprio che ci sia un collegamento Tra le parole babysitter e sostanze Infatti secondo Clint La babysitter che intende Kaylee Era il farmaco O il tranquillante Per far dormire sua figlia George pensa semplicemente che il giorno in cui Kaylee è venuta a mancare È stato per colpa di Kaylee Perché ha sbagliato A somministrargli la quantità giusta del farmaco Questa convinzione ha portato alla rottura definitiva Dei rapporti tra George e sua figlia Mentre sua madre la sente ancora ogni tanto Nonostante le loro opinioni divergenti su questa tragedia George e Cindy hanno comunque trovato un modo per rimanere assieme Le persone hanno bisogno di verità Vogliono sapere la verità E c'è solo una persona che sa realmente cosa sia successo Forse un giorno avrà il coraggio di dire tutta la verità Anche se ho i miei dubbi Detto questo ragazzi Io credo di avervi fatto capire quale sia la mia posizione in ambito Per me Casey Anthony è colpevole Mi dispiace Questa è l'opinione che mi sono fatta Studiando un minimo questo caso Ma voi cosa ne pensate di questo caso? Conoscevate la storia di Casey Anthony? Io credo di sì perché è molto famosa Ma fatemi sapere quello che volete Qui sotto nei commenti Che cosa ne pensate? Detto questo ragazzi Io vi mando Un bacione Noi ci vediamo Prestissimo al prossimo video Mi raccomando fate i bravi E continuate a mangiare le verdure Che continuano a far bene Ciao ragazze Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti.